Il Comune di Positano punta all'eliminazione delle barriere architettoniche ed infatti è stato approvato il preliminare del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ne parliamo con il Sindaco Giuseppe Guida, ben trovato. Salve, salve a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Alfa. Allora, un bel lavoro sicuramente quello che vi attende per raggiungere un obiettivo sicuramente prezioso. Esatto, sì, un obiettivo importante che ci siamo posti, cioè quello di rendere la nostra città accessibile a tutti dove chiaramente nessuno deve sentirsi escluso. Un obiettivo importante, come dicevo, ma anche difficile, ambizioso, data ovviamente la verticalità della nostra città nota a tutti, ma al tempo stesso devo dire un obiettivo nobile, qualificante per Positano, ma sicuramente un obiettivo al quale tutte le amministrazioni dovrebbero tendere. Abbiamo iniziato quindi questa progettazione del PEBA, come diceva, giustamente abbiamo approvato il preliminare di questo piano, una progettazione che assume un approccio di senza barriere, perché poi di fatti le barriere non sono solo fisiche, ma anche cognitivi, sensoriali, quindi da oggi Positano comincerà a ragionare, a progettare, ad adeguare, a pensare, eliminando quelli che sono gli impedimenti e le barriere architettoniche, in modo tale da poter essere una città aperta al mondo intero. Da cosa pensate di partire, di cominciare questo lavoro, che come dicevo non sarà semplice, lei lo ricordava, proprio per la conformazione di Positano, che è una realtà splendida, ma che appunto fa i conti con questa posizione sicuramente particolare, ovviamente comune a tanti altri paesi della nostra provincia, ma appunto da dove tenterete di partire? Sicuramente adesso il piano è diviso su diversi aspetti, in prima battuta inizieremo chiaramente da una condivisione della progettazione, perché come dicevamo abbiamo approvato il preliminare in questi giorni con la giunta municipale, adesso partirà tutta una fase di osservazione e di condivisione con la cittadinanza, anche per recepire eventuali osservazioni per migliorare il piano. Si parte sicuramente dagli edifici pubblici, da quelli in progettazione, da quelli esistenti, in modo tale da renderli adeguati all'accesso di tutti, ma poi ovviamente anche per quanto riguarda gli spazi pubblici urbani, in modo tale da iniziare a realizzare tutto quello che avrà in futuro, tenendo presente di queste necessità, in effetti ponendoci un obbligo, un dovere nelle nuove progettazioni. Abbiamo già iniziato con diverse iniziative, a breve realizzeremo un ascensore che collegherà una delle frazioni più belle della nostra città, che è la frazione di Nocelle, che oggi non è raggiungibile se non per delle scale, quindi abbiamo appena approvato un progetto per la realizzazione di un vettore meccanico che collegherà la provinciale alla cittadina, al centro proprio della nostra frazione, ma anche interventi di adeguamento dei servizi pubblici. Adesso infatti realizzeremo proprio sulla spiaggia un adeguamento dei bagni con i quali consentiremo anche alle persone disabili di poter accedere. Insomma è proprio un modo nuovo di pensare a quella che è la progettazione e di adeguare le strutture già esistenti. Insomma sarete pronti poi, magari già da quest'estate, però sicuramente dalla prossima, ad accogliere sicuramente un numero maggiore di turisti attratti anche dalla possibilità di godere di questa realtà importante della nostra campagna senza appunto limitazioni. Esatto, sì, questo è un obiettivo che ci siamo posti, anche per quanto riguarda tutti i luoghi della cultura. Come dicevo prima, le barriere non sono solamente di natura fisica, ma anche cognitiva, sensoriale. Vorremmo adegare anche i nostri musei alla possibilità e alla visita anche di persone con altro tipo di disabilità. Insomma, deve essere sicuramente un obiettivo importante, ma qualificante, che deve in qualche modo distinguere la nostra città proprio per questo tipo di attenzione particolare e doverosa. E allora, come lei ricordava, nei prossimi giorni ci sarà un incontro per coinvolgere gli attori sociali in questo progetto comune condiviso. Noi seguiremo ovviamente e saremo pronti ad aggiornare su quelle che saranno le decisioni prese. Grazie. Certo, mi fa grande piacere anche perché poi in questo progetto saranno ovviamente, a volte, anche le realtà private perché si deve anche agire da quel punto di vista in modo tale da mettere insieme sia la parte pubblica che la parte privata. Assolutamente. Ne riparleremo allora intanto. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Buona giornata.